Erano anni che non tornavo a Palermo, ma da certe cose però non si può scappare per sempre. E questa volta non ero più sola. Ogni volta che torno qua mi rendo conto di quanto gli ho costato lasciarmi andare via per farmi seguire il mio sogno, diventare una stilista. Maria, dai! La villa, le guardie armate, la clinica privata. E quindi? Che mi vuoi dire? Che non capisco che lavoro fa tuo padre. All'interporto.